Per alimentare il satellite Harvest, il professor Marx ha creato uno speciale generatore di estrema potenza. Ecco forse perché il dottor X lo vuole. Quando verrà lanciato, il satellite Harvest sorveglierà l'inquinamento in tutto il globo. Il mondo intero dipende dal suo funzionamento. Ah, Action Man! Sei qui per vedere il lancio del satellite? Allora buona fortuna, perché non andrà da nessuna parte. Sembra che i piani siano cambiati. Allora buona fortuna, perché non andrà. Ha! Ha! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Un grosso. a tutti. 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 un grosso. a tutti. 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 a tutti.